Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo e oggi torniamo con il tredicesimo episodio della Master League, la nostra Roma. In nuovo veniamo dallo scorso episodio in cui abbiamo vinto 4-0 contro la Fiorentina, vittoria importantissima signori, e siamo sulla strada giusta, finalmente abbiamo le nostre bellissime tre vittorie in campionato e abbiamo 11 punti. Siamo ancora distanti dalla zona promozione e siamo lontanissimi, però dalla zona metà classifica ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Detto che signori, partiamo subito con il video, ma prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i giudizi e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2.000 iscritti, signori, speriamo di raggiungere il prima possibile e che sia un primo obiettivo per futuri più importanti, più grossi. Allora, andiamo a sistemare la formazione, come al solito, mi avete consigliato di utilizzare anche una telecamera più distante, l'ho provata signori qualche episodio fa, ma non mi ha mai convinto sinceramente. Allora, il nostro schema se non sbaglio è questo, sì, è da un po' che non gioco, cambia giocatore. Allora, al posto di Cellini, che sta giù di morale, andiamo a mettere il mitico Verlanger, che però sta pure giù di morale, pochissime, stanno tutti giù di morale. Arti, 1.79, e vabbè, Verlanger sta giù di morale, signori, ma è 1.90, mi dà sicurezza là dietro. Poi andiamo a mettere Babangita, che, insomma, è Babangita e Babangita. Mamma mia, ce l'ho tutti giù di morale, ma che rottore di scatole? Ma perché? Hanno fatto Baldori l'altro giorno. Jürgen, se lo mettiamo dentro, che si sta comportando bene, al posto di Bolatta, che, signore, non mi fa impazzire. Abbiamo tutta la squadra giù di morale, a porta il Dudic. Cioè, veniamo da un 4-0, signori, porca miseria, un po' di, un po' di allegria. Contro il Giochiamo, contro il West Ham, bene, che se non sbaglio era terza in campionato, quindi, signori, prepariamoci a prendere le batoste oggi, anche se veniamo da un 4-0 che ci dà fiducia. Prepariamoci con la prendere le batoste oggi. Dai, 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 dai. Oh, qui sono partiti, sono partiti a razzo. Sono partiti a razzo. No, devi fermare, zio, lo devi fermare. No, 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 come c'è arrivato questo qua? Ottimo. Grande Vorlangen, grande Vorlangen, crea tu, crea tu Vorlangen, crea tu Vorlangen. Ne crediamo in te, crediamo in te. Uno, due, bello, bello, bello. Guardalo, guardalo di nuovo. Bellissimo. E arrivaci, mannaggia, mia tua pazza ambriaca. Ok, oh, oh, ci siamo comunque difficili, abbiamo fatto capire che ci siamo anche noi in campo, che non ci sono solamente loro, ci siamo anche noi. Dai, mannaggia, vai Babangita. Grandissimo Babangita che recupera il pallone, è nostra? Ma come è loro? Ma porca miseria. Come fa essere loro, signore? Valery, Valery non lo fa andare. Valery, Valery Tinlo. Ma io, ma io, ma io dico... No, no. Fuori sta palla. Mamma mia, che traversa che hanno preso, signori. Che traversa. Palla Babangita. Palla Babangita che parte da solo. Babangita, Babangita, Babangita. L'azione da difensiva in offensiva. Da difensiva in offensiva. Grande Babangita. Grande Babangita. Mannaggia, ha perso l'attimo per... Per tirare... No, non così. Mannaggia alle vostre sorelle. E a chi vi fa giocare? Qualcuno riesce a fermarlo, porca miseria? Signori, se questo... Ok. Calma, calma. No, non ci può andare Babangita di testa lì. Non ci può andare Babangita di testa lì. Calma, 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 calmissima. Porlangen, porlangen. La crea lui l'azione. Palla che arriva Babangita. Partito Babangita, signori. Il nostro bamba, il nostro bamba, il nostro bamba, il nostro bamba. Il nostro bamba rientra, il nostro bamba rientra, il nostro bamba rientra. Sbagliato il tiro. Sbagliato l'azione, sbagliato. Grandissimo Porlangen. La mia di testa le prende lui. Castello, 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 castello. Si trova in una posizione che non dovrebbe essere la sua. Castello, castello, ma non... Questo non lo preoccupa. Cosa cazzo l'hanno fatto tutte e due? Ma che cazzo l'hanno fatto? Porlangen, porlangen, porlangen. No, dai, cazzarole. Porca miseria, però, dai. Stromer si becca un cartellino giallo. E ci sta tutto. Porca miseria. Porca miseria. Mi ha levato il pirulino quando stavo per fare l'intervento. Dai, ma perché? Ma perché? Via sta parte. Buttala, buttala fuori. Ok, va bene, va bene. Stiamo soffrendo, signore. Stiamo soffrendo, però Babangita recupera il pallone. Babangita recupera il pallone. Babangita, 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 Babangita. Non lo fermi il Bamba. Il Bamba non lo fermi. Il Bamba è una sentenza, signore. Il Bamba è una sentenza di merda, però, signore. Oh, bene. Bene, 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 bene. Così, bene, così, bene, così. Attenzione. Babangita, Babangita, Babangita. La sentenza Babangita si scaglia su West Ham. Mannaggia. L'avevo vista dentro, signore. L'avevo vista dentro. E qui non ce l'ha Babangita su questa fascia, però. Attenzione. Però l'azione deve essere sempre la stessa. L'azione deve essere sempre la stessa. Tira la. Dai così. 1-0. Castello. Roma 1 West Ham 0. Roma 1 West Ham 0. Dai così. Bello. Bello. Finalmente Castello si fa trovare nel punto giusto, nel momento giusto. Porca miseria. 1-0. 1-0. Calma, signori. Calma, signori. Calma, signori. Non ci facciamo prendere dall'ansia. 1-0 l'abbiamo fatto. Ora, dico, loro per vincere devono farne due. E cazzarola. Già sono qua, però. Già sono qua, però. Mannaggia le vostre sorelle. Già sono qua. Bellissimo. Grandissimo Yorga. In un recupero pallone. Bellissimo. Apri la tutta. Va bene. Va bene. No. Non così. Mannaggia. Spinas. Una cosa buona è tre brutte hai fatto. Mannaggia a te. E a chi non te lo dice pure. Bravo, così recuperiamo questo pallone. Calma, signori. Giochiamolo. Giochiamo a Minanda. Minanda. Babangita. 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 Vada solo ancora lui. Babangita. Babangita. Si sente escluso da questa partita. Mannaggia. 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 Babangita. La recupera subito. Babangita. Babangita. Questa volta cerca Valery. Gioco di squadra. Non fa tutto da solo. Attenzione. 1-2 veloce. 1-2 veloce. Bellissimo, signori. Attenzione. Palla per Jürgens. Che però è lento. Palla per Jürgens. Attenzione. Vorlangen. Vorlangen. Vede Babangita. Vede Babangita. Che questa volta non si fida di Valery. Valery si era sovrapposto benissimo. Va Babangita. Va Babangita. Io penso che ci poteva anche stare il fallo. Io penso. Io penso da ignorante. Io penso da ignorante. Che ci poteva anche stare il fallo. Così ti impari. Dai, dai, dai che il nostro mannaggia le vostre sorelle. Calma, calma, calma. Babangita è super marcato, signori. Babangita in tre su Babangita. Ma lui se ne va lo stesso, signori. Non gli interessa. Non lascia la maglia a nessuno, Babangita. Babangita se non finisce la partita non lascia la maglia a Babangita. L'avevo vista dentro. L'avevo vista dentro. L'avevo vista dentro. L'avevo vista dentro al trentottesimo del primo tempo. Ma porca. E fermo un passaggio con la testa. Scusatemi. Come che abbiamo perso questo passaggio di testa? Va bene, va bene. Calma, 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 calma. Che è ripartito Babangita. Calma che è ripartito Babangita. Facciamo il 2-0 alla fine del primo tempo. Se riuscissimo a fare il 2-0 alla fine del primo tempo sarebbe... No, no, no. Annaggia. E belli i Valeri non ci arrivano. Io nemmai. Bello. No, era perfetto l'intervento. Era perfetto l'intervento. No, 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 no. Grandissimo Ivanov. Grandissimo Ivanov. No, no, no. Giochiamola qua. Giocaola qua. Giocaola qua, Ivanov. Bravo, così. Con calma e sangue freddo. Con calma e sangue freddo. Guarda Babangita. Valeri mio, valeri mio. Mannaggia a te che ti fa giocare pure. No, 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 lui mi devi dare. Lui, no, no. Bello, mamma mia. L'abbiamo rischiata. L'abbiamo rischiata, signore. L'abbiamo rischiata e l'abbiamo... Cosa ha parato Ivanov, signori? Cosa ha parato Ivanov? Cosa ha parato Ivanov? Sul tiro di Dicanio. Minuti di recupero. Minuti di recupero. Minuti di recupero. Fuori sto pallone. No, 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 no. Chi ci sta? Chi c'è lì? Fuori, fuori. Oh, mamma mia, signori, salvataggi. Mamma mia, salvataggi al limite. Salvataggi al limite. Va bene così. Va bene così. Calma e sangue freddo. Spostiamo di posizione. Espimas e Babangita. Sono tutti stanchi? Sì, ma io in panchina non ho giocatori che stanno esultando per entrare in campo. Quindi continuiamo per ora così. Poi vediamo come casano a metà intorno al sessantesimo di fare qualche cambio, signori. Per ora continuiamo così. Babangita, Babangita, parte subito. Babangita, Babangita, Babangita è partito. Signori, Babangita è partito. Babangita è partito. Babangita è partito. Io lo sento che sta partita finisce male. Io lo sento che sta partita finisce male. Perché non dobbiamo trovare il 2-0? Dico io, porca paletta ambriaca. Perché non dobbiamo trovare il 2-0? Soprattutto perché non corre quello lì? Perché? Chi cazzo non l'eri che non corri? Mannaggia a te, perché è lì che c'avevi Jorga? Brutto fallo. Brutto fallo. Bravissimo nell'intervento di chiusura. Mannaggia. Dai. Ducic. Cartinino aggiornato anche per Ducic. Punizione. Sincrella, scodella in mezzo. Attenzione. C'è l'1-2 feroce. C'è l'1-2 feroce. Palla fuori. Va bene. Va bene. Riusciamo a metterla fuori. Va bene così. Va bene. Riusciamo a metterla fuori. No, no, signori. Stiamo... Ci stanno... Ci stanno... Ci stanno un attimino schiacciando e questa cosa non va per niente bene. Ci stanno schiacciando e questa cosa non va per niente bene. Grande Babangita. Ci stanno schiacciando. 10 minuti, 9 minuti, 9 minuti di partita. E questi stanno a fare il fuoco. Ci stanno spremendo come delle cozze. Palla che finalmente arriva a Babangita. Che cerca di partire. Signori, chiudiamola. Signori, porca miseria. Porca di una paletta ambriaca. Chiudiamola, chiudiamola. Vai, babà. Vai, babà. Vai, babà. Vai, babà. Vai, babà. Vai, babà. Rientra. Vai, babà. Rientra. Ho sbagliato tasto. Ho sbagliato tasto. Ho sbagliato tasto. Ho sbagliato tasto. Ancora il controcross. 2-0 di Juggens. Sono un grandissimo errore. Mamma mia. Babagita, dovevo tirare. L'ho crossata. Poi l'ho crossata di nuovo con Miranda. Juggens. Mamma mia. 2-0. 2-0, signori. 2-0 contro West Ham. Vittoria non importante Sarebbe una vittoria importantissima Ma ancora non festeggiamo Perché la partita è lunghissima La partita non è che è lunga È lunghissima Va bene, va bene Va bene, va bene, va bene Rimessa la taralla per loro Dai, dai Teniamoli lì Teniamoli lì Teniamoli lì Grandissimo Rimessa la taralla nostra No Dai Ma non ci credo nemmeno Ma dai Cioè me li stanno in tutti Me li stanno in tutti Va bene Va bene Contento così Al sedicesimo Roma 2 West Ham 0 Che brutta palla Che brutta palla Esprimace 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 Con calma Con calma esprimace Con calma esprimace Annaggia 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 Ma stiamo scherzando Ma non era fallo mai nella vita Ma dai Gli deve dare le occasioni per pareggiare Gli deve dare le occasioni per pareggiare Sì Castello che salta di testa Ma di che stiamo a parlare Vorlangen 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 Aspetta Babangita Che si fa trovare pronto Babangita Parte Babangita 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 Avevo manccato per passarla Avevo manccato per passarla Signori Avevo manccato per passarla Con calma Con calma Pallona Babangita No Mannaggia Si è fatto Si è fatto fregare Babangita Bravissimi Però così Nell'1-2 Veloce Nell'1-2 Veloce Nell'1-2 Ammossa male il tasto Ammossa male il tasto Ammossa male il tasto Calma 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 No 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 Fuori Bella così Bella così Fuori sto pallone Fuori sto pallone Allora Loro ci arrivano sempre Impressionante Loro su qualsiasi pallone Ci arrivano sempre Stacco di testa Ci riesce qualcuno a anticiparli? No Non riusciamo nemmeno a anticiparli Dai 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 Fuori 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 Ivanov 28esimo 28esimo Calma 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 Signori Calma signori Pallone a terra Pallone a terra Cercamolo lì Babangita 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 Che riesce a partire Babangita 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 3 a 0 Signori Mamma mia Che Roma Mamma mia Che Roma Signori 3 a 0 Della Roma Su West Ham Mamma mia Che Roma Mamma mia Che Roma Signori Piano piano Roma 3 West Ham 0 Attenzione Questa è la Vittoria importante Potrebbe Potrebbe essere Una vittoria importante Perché non voglio ancora parlare Signori Perché sinceramente Questi A farci 3 gol In 10 minuti Ci li possono fare Denguinamente A parte che Se fanno il primo gol Inizia a fare una melina Che proprio Non ci sono Secondi Secondi Fini Proprio Melino Di confusione Attenzione Babangita Babangita 10 minuti Signori 10 minuti Al sogno 10 minuti Al sogno Di battere West Ham Se riusciamo A battere West Ham Già Già Vuol dire Che siamo diventati Squadra Se riusciamo A battere West Ham Già Vuol dire Che siamo diventati Squadra Attenzione Babangita È ripartita Ancora Su quella fascia Babangita 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 No Attenzione Ancora La palla Aperta Sulla fascia Grande L'intervento Di Espinas Che si sta dimostrando Un ottimo elemento Attenzione Decide di partire lui Espinas 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 Tiene troppo palla Ma siamo al 41esimo Siamo al 41esimo Signori Siamo al 41esimo Siamo al 41 No 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 Ma che rigore è Ma che rigore è Ma che stiamo scherzando Ma che rigore è Ma che rigore è Ma che rigore è Wacobi West Ham Fa 3 a 1 Sul rigore Ivanov Da una parte Palla dall'altra 42esimo 3 a 1 Signori 3 a 1 E va bene E va bene Ci sta Ci sta Ci sta Non so che rigore potesse essere Perché non Un rigore assurdo Attenzione Babangita 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 Mannaggia Bellissimo Un assist Ivanov Ivanov Mannaggia Spinto è nato fuori Ivanov Messa la terra Per loro Babangita Ha conquistato Una grande azione Attenzione Lì Juggins Ci crede Ci crede Attenzione Babangita 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 Riparte Forse No Finisce qui Signori Grande vittoria Della Roma 3 a 1 Sul West Ham Porca miseria Porca miseria Impresa Signori Porca miseria L'impresa Che siamo riusciti a fare Tanta roba Gol di Castello Quindi signori Prossima partita Inizia interessante Riuscissimo a battere A portarci a casa Altre 3 punti Nella prossima partita Aggangeremo Il Parma Forse O comunque Raggiungeremo La metà classifica Detto Signori Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio Per i like Per i commenti Per i gente E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Domani Per un nuovo appuntamento Bella raga Ciao